Buongiorno a tutti. In questa lezione di luglio osserveremo, disegneremo e dipingeremo il fiore e le foglie del Punica Granatum comunemente chiamato Melograno. Possiamo ammirarlo al Parco Sempione vicino al Viale Michievic. Molte sono le leggende sul frutto mentre il bel fiore rosso che andremo a dipingere rappresenta l'amore ardente. I fiori, che possono essere solitari o a grappolo presentano un calice carnoso coriaccio nella sua parte inferiore congiunto all'ovario di forma tubolare diviso in 5-7 punte o lacigne di un bel colore rosso corallo. I petali sono leggeri come carta velina anch'essi rosso aranciato. Le foglie sono di un bel verde lucido o plolunghe e o bovate opposte. Ecco il disegno stilizzato del rametto del mio melograno. Inizierò col disegnare la linea centrale poi la sfera dell'ovario e dei boccioli il tronco di cono della corolla con la coroncina delle lacigne la nervatura centrale delle foglie e il loro margine sinuoso. Infine i petali. Ecco il mio disegno con tutti i particolari molto delicato e leggero. Stenderò le prime velature leggere con un pennello numero 3. Per la corolla userò una miscela di giallo rossastro più rosso trasparente. Per i petali di permanent rose o rosso primario più un rosso di cadmio leggero e per le foglie un giallo primario più oltremare. Bagnerò la corolla con l'acqua e partendo dalle zone più scure sfumerò il colore verso le zone più chiare. anche per i petali bagnerò con l'acqua e partendo dalle zone più scure sfumerò il colore. e partendo dalle zone più scure e partendo dalle zone più scure lascerò asciugare molto bene e poi intensificherò il colore con un pennello più fine dipingerò i petali seguendo le venature lo stesso per le foglie lasciando più chiare le venature unendo un po' di sepi alle miscele precedenti dipingerò l'ombra delle lacigne sui petali l'ombra propria della sfera dell'ovario e del bocciolo e l'ombra portata sulle foglie scurirò la parte più scura della pagina delle foglie e con un po' di terra di siena bruciata e un po' di seppia dipingerò il rametto e i particolari il fiore del mio melograno è dipinto non esitate a contattarmi al mio indirizzo email per chiaramente spiegazioni e arrivederci al prossimo progetto